Sicuramente l'allenatore dell'ESA Chieti avrà chiesto una squadra sveglia e quindi per tenere sveglia una squadra tutto il campionato era necessario un abbinamento perfetto, presente Gabriele Marchesani, la Mocambo è il caffè ideale, in questo momento ci vuole proprio? Ma è un'azienda storica che ha sempre ricoperto ruoli importanti nello sport chietino-abruzzese, io mi ricordo Mocambo ai tempi del ciclismo con una squadra molto molto importante con l'allora capitano Cipollini e con tantissime vittorie nel ciclismo e quindi speriamo che quest'anno, grazie all'apporto e al supporto che ci dà Mocambo qui nel basket a Chieti, speriamo di cogliere le stesse vittorie così importanti come le sono state nel mondo delle due ruote. Beh Gabriele, tu hai detto speriamo, in realtà la società resta ambiziosa e questo abbinamento con la Mocambo che giustamente ricordato è sempre stato vicino allo sport per anni e anni diventa un passaggio importantissimo perché la società si consolida ulteriormente anche dal punto di vista economico. Mocambo è una di quelle eccellenze appunto come hai detto prima nel mondo del caffè che comunque fanno differenza, noi siamo chiaramente onorati che questa famiglia, come ribadisco che da tanti anni vive il mondo dello sport a 360 gradi sia da supporto al nostro progetto, alla nostra attività sportiva e ribadisco ancora che quest'anno sarà un anno importante per noi perché chiaramente l'obiettivo prefissato senza nasconderci dietro un dito è quello di riportare Chieti in Serie A2. La società l'anno scorso dal nulla è riuscita ad arrivare fino in semifinale, poi persa come sappiamo con Salerno, quest'anno chiaramente dobbiamo migliorarci ed arrivare in finale e vincere e portare la città di Chieti, il pubblico che merita palcoscenici importanti appunto in Serie A.